Alexa, buongiorno, Gale Casa. Che spettacolo, e dietro questo semplice comando vocale c'è tanta emozione da parte mia in questo momento, c'è tanta pazienza, tanto lavoro, tanta pazienza da parte di Chiara, che però è stata fondamentale, poi vi racconto perché, tanto lavoro anche da parte di Dario, di Mord, autore, che ringrazio General Contractor, perché a me di notte venivano le idee, guardavo i prodotti, li studiavo, lui di giorno metteva in pratica, trovava le persone giuste, quindi veramente mi ha dato una grande mano, ma ecco i show da 15, che tra l'altro, da quando ho fatto la recensione, è molto migliorato, tanto da essere uno dei cuori di comando della casa, perché ce ne sono molti altri, per esempio l'applicazione di Control 4, per esempio le integrazioni con Google e Home di Apple, ma tempo al tempo, scusate, sarà un video un pochino lungo, perché lui è migliorato tanto, oltre ovviamente a poter gestire tutte le luci di casa, i gruppi, le stanze, accensione, spegnimenti, è un po' il cuore per cucinare, per quello che ho messo in cucina, perché grazie a Giallo Zafferano, Alexa, ricetta del tiramisù, per esempio, perché è il mio dolce preferito, posso vedere qua la ricetta, posso farla tranquillamente, posso seguirla sia vocalmente sia con le immagini, ma è diventata una Fire TV con l'ultimo aggiornamento software, quindi in cucina non ho messo un'altra televisione, perché qua si integrano praticamente tutti i maggiori broadcaster, Prime Video, Dazon, Netflix, Disney+, e poi si possono installare applicazioni, anche Plex, se avete dei file in rete, quindi è diventato veramente super, super, super comode, poi la lista della spesa, posso dettagliare, ma anche vedere, idem le note, insomma, comodissimo, ma vediamo al succo, che cosa ho installato? Siamo in cucina, partiamo da lì, ma la premessa era che l'impianto domotico doveva essere granitico, stabile, quindi non ho scelto apparecchiature connesse via radio, tutto filare, protocollo KNX perché è uno standard, perché tante aziende vi partecipano, quindi io che ho messo le placche e gli attuatori di Echinex, un domani cambiasse idea, non ci fosse più Echinex, qualsiasi cosa, potrei cambiare queste placche, questi interruttori, questi frutti con un altro brand, KNX, e non dovrei cambiare null'altro, e KNX mi dà anche sicurezza di connessione, cioè l'interruttore, la luce, le cose basi di casa devono sempre funzionare, quindi filare tramite bus, vi ho sempre detto che secondo me la domotica via radio va bene per fare retrofix in quelle case dove è molto difficile cablare. Questo video sarà lungo sì, ma ce ne sarà un'altra serie dove vi racconterò tecnologia per tecnologia approfondendo, quindi qua è proprio un giro di casa, scusate, sono veramente emozionato. Partiamo dalla cucina, rubinetto, cooker, avete visto l'unboxing, cosa fa? Tante cose comode, tipo acqua gasata, fredda, con il livello di gasatura che è selezionabile, acqua liscia, fredda, ma fa una cosa che davvero pensavamo non fosse utile, sia rivelata la più utile. Doppio clic qua per sicurezza bambini, acqua bollente a 100 gradi. Mamma mia, ma non solo per riempire una pentola e cuocere magari quelle catture rapide, tipo gli gnocchi, 1-2 minuti al volo senza neanche mettere sui fuochi a induzione, ma anche per sterilizzare, sbollentare il salmone, le verdure, ci ho pulito un candelabro con la cera incastrata. E anche qua farò un approfondimento perché è veramente interessante, al volo vi faccio vedere sotto cosa c'è, tra l'altro non occupa troppo spazio, ci sta comunque la spazzatura. L'ala bombola da 3 litri in sovrappressione, quindi l'acqua là dentro sta a 108 gradi, in modo che esca a 100, poi vi parlerò anche di consumi energetici, ma non sono assolutamente esagerati, vi dico 10 watt in stand-by per mantenere l'acqua. Qua il filtro, qua la bombola di CO2 e qua il cuore, diciamo, dove si possono andare a impostare alcuni parametri. Questa è veramente una figata, un elettrodomestico. Poi, elettrodomestici abbiamo scelto mille. Anche qua eravamo veramente in dubbio, tanti elettrodomestici connessi, ve ne ho parlato, ma avendo già lavatrice e asciugatrice, che avevo provato, quindi ce li siamo portati dallo studio, me li sono portati fino a casa nuova, abbiamo scelto di connettere tutto, e la scelta secondo me è stata giusta. Non solo perché gli elettrodomestici ci sono, vabbè, mille, si, commenta solo, questo è il forno a microonde combinato con il vapore, vapore che riempie questa camera, può cucinare verdura, ho già provato in maniera super efficiente. Questo è il forno, tra virgolette, standard, telecamera per controllare da remoto, le cotture e poi anche qua un po' di vapore, ma non per cuocere a vapore, bensì per andare a aumentare l'umidità interna per migliorare torte lievitate. Abbiamo già provato ed effettivamente funziona decisamente bene, ma questo pannellino di controllo è comodissimo, perché ogni elettrodomestico con un display può diventare il supervisore di casa e dirci cosa sta succedendo. Per esempio, adesso, vedete, è tutto off, tranne la lavastoviglie, che sta andando, tra l'altro molto silenziosa, a due chicche. Il power disc, quindi il detersivo, non bisogna aggiungerlo tutte le volte, ma c'è una ricerba di detersivo comodissima, ma soprattutto anche in ottica risparmio energetico, lei, tutte le volte che finisce un ciclo di lavaggio, ricarica acqua per il lavaggio successivo, in modo che l'acqua, che arriva dalla rete a 12 gradi, si riscaldi naturalmente, stando ferma nella lavapiatti e stando nell'ambiente che è a 20-21 gradi. Piccola, generata, che consente di risparmiare energia. Tutti questi elettrodomestici parlano in rete, sono collegati in wifi, e vedete qua, questo pannello ci dà il tempo residuo al file del lavaggio e della lavastoviglie, idem, lavatrice e asciugatrice, lì ci dice lo stato, perché è vero che c'è l'applicazione, ma ecco dove è intervenuto e dove ha giocato un ruolo fondamentale e chiara. Mi ha detto, Andrea, va bene la domotica, va bene la tecnologia, ma deve essere utile, semplice. Per questo, KNX granitico, per questo funzioni smart che non hanno bisogno sempre dello smartphone, perché è vero che c'è l'applicazione Miele che ci dice gli elettrodomestici cosa stanno facendo, avvio da remoto, guarda dentro il forno, eccetera, eccetera, ma questo, butti l'occhio e vedi gli elettrodomestici cosa stanno facendo, è una marcia in più, dove non devi fare niente, guardi e sai. Per esempio, lavatrice e asciugatrice, noi ce li abbiamo qua, ma se fossero in un'altra stanza, nel bagno, in garage, sarebbe veramente un pannello di controllo utile e comodo. Piano induzione, cosa ha di smart? Prima di tutto, che anche lui è collegato via Wi-Fi, anche la cappa è collegata via Wi-Fi, adesso ho acceso il piano e due zone standard, con questa che si chiama Temp Control, a temperatura controllata, vuol dire che noi non impostiamo la potenza, ma impostiamo una temperatura e la potenza viene automaticamente regolata per mantenere quella temperatura. E poi, eh, si sono accesi i LED, perché loro comunicano, adesso, scusate, spengo perché non ho messo niente dentro la pentola, e sia l'inizio della ventilazione, sia la potenza della ventilazione, sia l'accensione delle luci, sono comandate da quello che sto facendo qua sotto, senza toccare niente. Se il naso della cappa sentisse dei vapori, la farebbe partire a una velocità tale, per cui quei vapori sarebbero evacuati. Comodissimo. E poi l'altra cosa comoda è questa zona del piano induzione, che è libera, cioè la potenza la posso mettere lì, la posso mettere qua, la posso mettere qua, e funziona comunque. Vedete? Adesso ho spento tutto, non ci sono vapori, e si è spenta anche la cappa. Super comodo. Questo che è la metric time, è un vecchio ricordo, l'ho portato da casa vecchia, e mi dà un po' di informazioni, che preleva dalla casa, compresa... Sì, compresa la quantità di CO2, ma questa è un'altra storia. C'è da dire che casa non è ancora finita al 100%, là sopra c'è a sinistra la parte dedicata all'audio, con il Vessel, che è un amplificatore multi-room smart connesso, poi vi faccio vedere le cose che fa, sotto amplificatore per la zona soggiorno del subwoofer, che è nascosto, era un altro mio parametro di progetto, qua a destra manca ancora il rack, che ci sarà, qua un access point di Aruba Instant On in PoE, c'è anche uno switch di Aruba HPE in PoE, c'è anche il cuore di Control 4. Cos'è Control 4? Un supervisore, perché vi ho detto prima, volevo una domotica granitica di base, alla quale poi aggiungere cose, per rendere tutto più semplice, più smart, fare scenari, fare automazioni, e Control 4 fa tutto quello, e volevo anche sganciarmi un po' dagli ecosistemi, va bene Alexa, va bene Google Home, va bene Home di Apple, tutto integrato, ma non volevo essere schiavo di uno di questi, quindi ho scelto Control 4, che supervisiona dall'alto, fa scenari indipendentemente dall'ecosistema scelto. Ma adesso vi porto nel living, vedete qua, tv, ampli, playstation, un telecomando, che poi vi racconto, il proiettore, albero di Natale, spento, ma adesso lo accendiamo, e soprattutto, un camino ad acqua. Allora, l'albero di Natale, lo accendiamo con l'applicazione, di Control 4, che, cominciò prima, integra tutto, dal controllo delle luci, al controllo dell'audio, multi room, alla possibilità di andare a, settare gli ingressi, le uscite, perché ovviamente è uscita tv, uscita proiettore, direttamente dall'applicazione, gestire tutti i termostati di casa, gestire le tende, gli oscuranti, e anche la sicurezza, perché qua, si integrano anche le telecamere, si integra l'impianto antifurto, e si integrano le serrature smart, ma vi dicevo prima, non solo da applicazione, ma anche da tablet, e da quel telecomando, che avete visto prima, che poi vi faccio vedere meglio, ma parliamo un attimino, di questo, cammino ad acqua, quello che vedete uscire, è semplicemente, vapore, freddo, vedete, potete mettere tranquillamente, qua una mano, e l'atmosfera che crea, è bellissima, l'abbiamo visto, mi sembra il salone del mobile, Chiara se n'era, innamorata, e l'abbiamo preso, perché, non brucia ossigeno, non emette CO2, come fanno i cammini a combustione, non ha bisogno di canna, fumaria, e secondo me, l'atmosfera che crea, è veramente, veramente bella, tra l'altro mettendo un paio di gocce, di profumo, nel serbatoio dell'acqua, va anche a profumare, l'ambiente, e a umidificare, nel caso sia poco, umido, unica cosa, non costa pochissimo, e l'altra cosa, è che, è un po' smart, nel senso che si può, regolare l'altezza, del vapore, quindi della fiamma, e il colore, della rete di illuminazione, della fiamma, ma con un'applicazione, passatemi il termine, un po' cinese, che non si integra nella domotica, ma una volta settato, direi che, basta così, l'unica cosa, caro falegname, quando mi porti, il rivestimento definitivo, vabbè, casa non è ancora proprio finita, ma se aspettavamo, le finiture al 100%, entravamo nel 2025, ma adesso vi parlo, un po' di parte audio video, vi ho accennato prima, un telecomando, ed eccolo qua, sulla sua basetta, di ricarica, questo è il telecomando, di control 4, ne hanno già annunciato, una versione successiva, molto più figa, che arriverà tra qualche mese, pronto Federico, sai che devi mandarmela, questo è un comando, per tutta casa, non solo per le luci, vi ho fatto vedere, dall'applicazione, praticamente una replica, dell'applicazione, ma anche qualche comando fisico, per esempio, io voglio guardare, la tv, basta che schiaccio, guarda tv, e in automatico, si accende, la K95 di Sony, che ho scelto come OLED, perché secondo me, è il miglior OLED in commercio, arriverà la recensione, e va automaticamente, come vedete, sul digitale terrestre, da qua, quindi non dal telecomando, la tv, posso alzare, e abbassare il volume, e posso ovviamente, anche cambiare canale, e volendo, rimanendo qua, posso anche andare, a gestire tutta casa, per esempio, voglio spendere l'albero di Natale, lo posso fare, voglio guardare, che ne so, la Apple TV, sul proiettore, basta che schiaccio, watch on projector, Apple TV, e tutto si setta, per un'esperienza cinema, ovviamente, scende il telo, si spengono le luci, si chiudono gli oscuranti, ecco, sì, ci siamo quasi, l'unica cosa, che ancora non è definitiva, è il divano, perché, ci vuole un po' più lungo, visto che, ci sederemo qua, quando guardiamo la tv, e ci sederemo là, quando guarderemo, il proiettore, sul proiettore, sul proiettore, avevo un'esigenza, ben specifica, a parte che, anche il proiettore, lo posso comandare, più che il proiettore, è proprio l'Apple TV, direttamente da qua, quindi, posso andare, alla home, con i pulsanti, mi muovo dentro, le varie funzionalità, e al volo, sì dai, uno dei film, secondo me, più belli del 2022, Top Gun 2, che spettacolo, vi dicevo, quali erano, le esigenze, tra l'altro, abbasso il volume, sempre qua, dal telecomando, oltre ad avere, un'ottima qualità, di visualizzazione, ragazzi, io non amo le casse, quindi, avere tutto, nascosto, e qua, siamo riusciti a ottenere, un ottimo compromesso, con, frontale, anteriore destra, anteriore sinistra, e subwoofer, incassati, a soffitto, il subwoofer, è un po' grande, fortunatamente, avevo un po' di spazio, nel controsoffitto, ahimè, non avevo spazio, sufficienza, per andare a mettere un lift, e incassare anche il proiettore, però, a me, la parte un po' tech, anche in vista, non dispiace, è una scusa che mi do, avrei preferito incassarlo, ma vabbè, dovevo smontare mezza casa, e là dietro abbiamo, il fronte posteriore, l'amplificatore, che sonorizza tutto, è un Yamaha, perché io amo Yamaha, amo il suono, che mi danno, veramente eccezionale, e, ho messo anche la Apple TV, proprio per andare ad avere, un apparato sempre connesso, sempre in casa, per far funzionare tutto, home kit, e il risultato, secondo me, è notevole, è un compromesso, un compromesso, tra voler nascondere tutto, e una qualità audio notevole, poteva essere meglio, sì, magari con delle casse frontali, magari con un 7.1, ma comunque, vi assicuro, che suona già, benissimo così, e tutti gli amici che vengono, poi non si schiodano più da casa, perché il proiettore, è uno spettacolo, la TV è uno spettacolo, ma il proiettore, è un'altra cosa, e ovviamente, poi dal telecomando, posso andare a spegnere tutto, con un click, e con un altro click, sugli scenari, che non solo da telecomando, ma sono comandabili, anche da questo, che è il tablet di Control 4, con una bella base, dove lo si appoggia, e lui si carica, ovviamente, sempre possibilità dallo smartphone, o con i comandi vocali, ho riportato tutto in default, quindi sono alzati gli oscuranti, si è riaccesa la luce, ma anche sulle luci e sulla CO2, adesso vi racconto un po' di automazioni domotiche, questo è un termostato, no, forse chiamarlo termostato, sarebbe riduttivo, in realtà è anche un nasone intelligente, è di Echinex, che ho scelto, non solo perché ha queste apparecchiature, perché comunicano tramite KNX, ma anche perché, secondo me, hanno le più belle placche esistenti, guardate, che design minimal, con questa finitura in Fenix, ce ne sono tante, poi vi faccio vedere anche nelle altre stanze, ho altre finiture, ma soprattutto multifunzione, queste sono quattro placche, che hanno due funzioni, quindi posso accendere, o comandare, otto luci, otto scenari, quattro tapparelle, con il su e giù, insomma, veramente belle, con i led di stato, che mi indicano lo stato, delle varie luci, vedete qua adesso ho spento, posso andare ad accendere, comodissimo, ma vi parlo, qua, di questo termostato, temperatura, e nasone, devo ancora creare la routine, che, quando sto parlando, e sto facendo un video, mi mette a non disturbare il telefono, ma, si può fare, vabbè, vi stavo dicendo, termostato, quindi si regola la temperatura, io qua, ho un impianto, che ho già trovato in casa, con pannelli radianti, a pavimento, con ventilazione meccanica controllata, che è quell'apparato, che estrae, aria viziata dalla casa, e, immette, aria dall'esterno, pulita, ovviamente, filtrandola, qual è il vantaggio? Che la VMC, va a scambiare anche il calore, perché se io estraggo, aria a 20 gradi, che ho in casa, in questo momento a 22, perché comunque sono accese luce, eccetera, eccetera, però il settaggio è, come norma, a 21, la immette, non a 5 gradi, come temperatura esterna, ma va a scambiare calore, tra aria interna, aria esterna, immettendola, non so, a 15, 16 gradi, ma avendo sempre, un ricirco dell'aria, il sistema c'era, ma era stupido, cioè era solo on off, la VMC andava sempre, e secondo me non aveva molto senso, secondo me il senso della VMC è che vada, magari quando ci sono le finestre chiuse, o quando il livello di CO2, rigiunge determinati livelli, deve aumentare la sua velocità, visto che la VMC ha delle velocità regolabili, quindi al minimo, sempre, va bene, tranne quando apro le finestre, mentre aumenta la CO2, oppure gli inquinanti aumenta la velocità, e con questo, configurato in campagna NX, si può fare tra l'altro, e Kinex ha una sua applicazione, che si chiama Delego, che ovviamente si può utilizzare, o si può anche non utilizzare, essendo KNX, ed essendo supervisionata anche da Control 4, ma è un altro supervisore, che io ho installato, si chiama Delego, e ha sia un'interfaccia touch, che è quella là, sia l'applicazione, dove vediamo stanza per stanza, e anche qua possiamo accendere, o spegnere luci, alzare o abbassare tapparelle, ma soprattutto, se vado nella zona living, nel termostato, oltre a poter visualizzare l'umidità, decidere la temperatura, posso vedere il livello di inquinanti, sia i TVOC, sia la CO2, in questo momento 512 di CO2, quindi bene, quindi la VMC, sta andando a velocità 1, e la VMC veramente cambia il comfort di casa, perché anche se fate odori, cucinate, fritto, eccetera, eccetera, dopo poco, l'aria viene ricambiata, depurata, ma l'aria che viene messa in casa, è esterna, quindi non è come, semplifico un Dyson, quindi un purificatore d'aria, che non può togliere i gas, o gli inquinanti, perché è sempre quella, toglie le particelle, ok, ma la CO2 per esempio non l'abbassa, qua invece è proprio un ricambio d'aria, esterno, interno, più VMC per tutti, perché è una figata. E scendendo queste scale, che secondo me sono veramente un'opera d'arte, di architettura e ingegneria, una scala saldata in opera, veramente a chiocciola, bellissima, come avete visto, si sono accese delle luci, sia quelle ali di questo armadio, sia quel faretto là. Questo perché in casa ho messo quei sensori, che sono rilevatori di presenza, e anche di luminosità. Quando la luminosità è sotto un determinato livello, e il sensore sente che passa qualcuno, in base all'ora del giorno, accende luci, nel senso che se è notte, beh, si accende solo quella veletta, a un 5%, avete presente quella luce, che non vi fa schiantare contro l'armadio, ma che non vi sveglia, fantastico, se invece c'è un po' più di luce, magari sono chiuse le porte, quindi qua è una zona abbastanza buia, le accende a una percentuale superiore, 70%, come è ora. Questa scritta, bellissima, adesso ve la accendo manualmente, perché ovviamente c'è sempre la possibilità di usare tutto manualmente, si accende automaticamente, quando si apre quella porta, e i sensori sentono che non c'è nessuno in casa, vuol dire che stiamo rientrando, questo perché i sensori dell'antifurto, quello là per esempio è un radar, che è di Xenia, e lo sapete perché ho fatto l'unboxing, comunicano proprio con Control 4, con KNX, perché ho scelto prodotti integrabili, tra l'altro vi faccio vedere qua dentro, dove c'è l'armadio della tecnologia, e il quadro elettrico, come io abbia messo un UPS di APC, che è lo stesso che ho in ufficio, mi sono trovato benissimo in questi anni, due cose mi hanno convinto, la prima è la pulizia della corrente, da picchi, sbalzi, eccetera, eccetera, la seconda la connessione in rete smart, plug and play, qua dietro vedete, oltre a tutte le porte c'è anche l'Ethernet, e lui mi dice se manca la corrente, se c'è qualche problema, lo stato delle batterie da remoto, veramente funziona benissimo, ripeto, io ho fatto la recensione, ma qua dentro vi faccio vedere anche lo switch, che è POE, cosa vuol dire che queste porte, oltre a portare la rete, portano anche corrente a cosa? Alle telecamere, quindi l'UPS va ad alimentare, ovviamente il router, gli access point, e basta perché poi, scusate, gli switch, perché poi gli switch danno corrente agli access point, tramite cavo di rete, quindi gli access point non ho dovuto mettere la presa e la spina, quindi li ho nascosti in casa, nei controsoffitti, anche perché sono gestibili totalmente a remoto, instant on Aruba, HPE ha un sistema di controllo veramente fantastico, anche le configurazioni che si possono fare a questi switch sono incredibili, e anche tutte le telecamere, che vi ricordo sono di Lilin, perché anche loro si integrano molto bene in Control 4, sono alimentate via POE, quindi una volta che do UPS e alimentazione a quelle quattro cose, praticamente ho alimentato anche tutte le telecamere, tutti gli access point, solitamente il bagno è la stanza meno smart di casa, in realtà qua c'è il rilevatore di presenza, adesso non ha fatto niente perché ovviamente c'è tanta luce, di notte anche qua accende una lucina al 5%, si manca ancora una placca, vi dicevo casa non è ancora al 100%, ma non solo, perché guardate in bagno ho questo enorme finestrone, che dà su uffici, insomma non bellissimo farsi vedere magari sempre in bagno, ma volendo sia da applicazione, sia con la voce, ormai questo è un film rouge, ma anche da un bel tasto, guardate posso rendere trasparente o opaca, la pellicola LCD, e così facendo riesco a vedere fuori, adesso mi sto offuscando per privacy, ma vi assicuro che vedo fuori, schiacciando questo pulsante diventa completamente opaca, pur facendo passare la luce, quindi diventa color latte, ecco in questo momento che l'ho resa trasparente, la trasparenza non è 100%, diciamo che è circa un 85% e poi cambia in base all'angolo di visione, cioè più angolo gli do, meno trasparenza c'è, ma è una genialata per chi ha soluzioni come la mia, di un bagno un po' diciamo all'udibrio, ma un'altra cosa, guardate sopra mia testa, sì vabbè le botole, quelle ahimè ci sono gli impianti, c'è la OMC anche in bagno, c'è la climatizzazione che non è a pavimento, ma è tramite fan coil, ma c'è anche quella, cos'è? Una cassa, allora Spotify, ma anche qua posso far avviare la musica con qualsiasi applicazione musicale, vado in Spotify Connect e scelgo bagno, gale, gabri, sentite cosa succede? se alzo il volume, beh, tutta un'altra musica, quanto pompa dal soffitto quella casa, e tutto è cassa, gestito da il vessel che avete visto sopra, ecco, magari adesso vado ad abbassare, la cosa bella, è che quella cassa si integra anche in home di Google, vedete qua le varie stanze con le varie casse, e ovviamente fa anche da AirPlay, questa è una figata, figata che ovviamente non poteva mancare nemmeno in camera da letto, è la vecchia filodiffusione, ogni stanza di casa ha questi altoparlanti, che si possono gestire dallo smartphone, ripeto, o via Spotify Connect, ma anche dall'applicazione di Control 4, che adesso era sulle luci, ascolta, qua si può scegliere la sorgente e sparare in ogni camera, oppure come dicevo prima, da Apple, quindi da AirPlay, oppure dall'applicazione Google Cast, un'altra cosa che qualcuno mi ha convinto ad installare, e non finirò mai di ringraziare, mi sembra Dario, le tende elettriche, perché si possono integrare negli scenari, ma soprattutto ha una funzione super smart, questi sono i motori di mottura, molto silenziosi, ma guardate, voglio chiudere la tenda, sono lontano da un interruttore, basta che tiro un pezzettino, e voilà, parte autocammaticamente l'oscurante, e si chiude, questo per tutte le tende, sia oscuranti, sia le classiche tende, per non farsi vedere in camera, comodissimo, ovviamente poi le tende le posso gestire, anche dagli interruttori, e questa è l'altra finitura che volevo farvi vedere, e anche l'altro design di placca, con un minimo di cornice, in metallo bronzato, sempre di Echinex, bellissima, l'altra figata, la presa, asciuco con anche l'uscita Type-C, e USB, io qua ci attacco i cavetti, e di notte carico il cellulare, senza impegnare una presa, e ovviamente anche in camera da letto, c'è il nasone, perché nelle due camere, e nel living, possiamo avere livelli di inquinanti diversi, e avendo la gestione di tre WMC, ovviamente vengono comandate tutte, o meglio ognuna, da un termostato, e da un naso diverso. E qua c'è il bagno di Chiara, anche lei col sensore, che ovviamente adesso non si attiva, perché c'è luce, e ovviamente anche qua, la possibilità di ascoltare musica, con un click, e sentite quanto è veloce il cambio stanza, super veloce, e anche come pompa, pur non essendo grandissima la cassa, e non avendo un subwoofer, e tra l'altro vi racconto questa cosa, Chiara era contraria, alla, la chiamo filodiffusione, anche se è una filodiffusione 3-4.0, da quando siamo venuti ad abitare, è la cosa forse che vuole di più, si fa la doccia, mette le sue belle canzoncine Natale, ed è felice. Ma adesso vi porto nell'ultima stanza della casa, ripassato qua, mi è venuta in mente una cosa, a pellicola, non vi ho dato riferimenti, perché ha interessato molti, mi avete scritto in molti, è di switcho, la distribuisce Michael Film in Italia, vi lascio il link in descrizione, se vi interessa, vi fate fare un preventivo, in 24 ore ve la preparano, tra l'altro molto bravi anche a installarla, Light Lab, grazie per la scritta, è stata un, me l'avevano fatto, questa è la seconda, la prima che me l'hanno fatto, non mi aveva convinto, questa è bellissima, non l'ho pagata nemmeno tantissimo, secondo me ci sta alla grande, Roborock il mio aspirapolo di fiducia, qua vedete un buco perché ci va ancora il tablet di controllo, tra l'altro ne ho fatto vedere che sopra, ho messo la Nuki come serratura connessa, per un semplice motivo, questa porta blindata è stata fatta su misura, andare a elettrificare la serratura, era un disastro, grazie a Smart Domo, Federico, Integrator, siamo riusciti a importare nel progetto anche la Nuki, quindi col nuovo tastierino, con l'impronto digitale, da fuori potrò aprire la serratura, e da lì scatenare tutti gli scenari di ingresso in casa, ma vi faccio vedere anche la finitura bianca, di queste bellissime, continuo a dirlo, bellissime placche Echinex, dalle quali ovviamente si possono accendere le varie luci e anche dimmerare, perché basta tenere premuto su un pulsante e le luci si possono dimmerare, bellissima. Altra cosa che ho apprezzato da paura, guardate, queste sono rasoparete, ovvero delle scatolette che quasi non si vedono, che mi hanno consentito di togliere le mille scatolette di derivazione che c'erano in questo appartamento, anche, non so se vi ricordate il collettore dei caloriferi, ve lo faccio vedere al volo, era bruttissimo, magari prendo un estratto dal clip del video che avevo fatto, guardate con il raso, parete quanto è cambiato il design, e ovviamente anche in camera di Gabriele non poteva mancare la diffusione sonora, e qua magari vi faccio vedere come si interfaccia anche con l'ecosistema di Apple, basta qua andare su Airplay, selezionare la camera dove volete sentire, mettere in play qualsiasi contenuto multimediale, e ovviamente alzare il volume, sentite? L'audio arriva dal soffitto in stereo, perché qua vedete i canali sono due, nel bagno l'altoparlante è uno, ma ha due tweeter, quindi simula anche lì uno stereo, insomma veramente, una figata, quell'amplificatore Vessel che si integra proprio in tutto, Control 4, bellissimo per i scenari, per il controllo generale di casa, slegato dagli ecosistemi, una domotica è vero magari un po' complicato, meglio può sembrare complicata, ma costruita secondo me con intelligenza granitica alla base KNX, per poi agganciare mondi per far comunicare tutto, anche eventualmente un upgrade a Matter. L'unica cosa che abbiamo fatto vedere, che devo ancora montare, è EasyCon di Freedom Pro, perché ad oggi Control 4, lo sarà compatibile tra qualche mese, ma oggi non lo è, con Home di Apple, quindi avrò quell'interfaccia per andare a gestire meglio l'assistenza proprio su HomeKit. Su tutto è una casa che può sembrare complicata, ma è molto molto semplice da usare, perché le automazioni sono studiate, pensate e avendo tanti sensori, si può veramente far fare a casa quelle cose che vogliamo senza doverle fare, perché è vero che l'interruttore c'è, è vero che nella nostra testa per accendere la luce bisogna schiacciare un interruttore, ma è anche vero che siamo nel 2000 quasi, 23, quindi se io vado in bagno di notte, perché devo schiacciare un interruttore? Cioè vado in bagno, la luce mi si deve accendere al 5%, se entro in casa, perché devo fare mille cose? Devo aprire la porta e la casa si deve risporre in base alle mie esigenze. E attenzione, Chiara sta apprezzando. Commenti e tutti i link dei vari prodotti vi lascio in descrizione. Poi arriveranno ovviamente video dedicati a quello che magari più vi interessa. Fatemi sapere sempre nei commenti. Ciao e Buon Natale! Grazie a tutti! Grazie a tutti!